Il potere d'acquisto lo augura purtroppo chi non ce l'ha, da tempo ormai stiamo assistendo a manovre finanziarie inique che poi vengono spacciate per manovre che vanno a favorire le fasce più deboli, se andiamo a scavare a fondo ci sembra quasi di vivere in due mondi paralleli, c'è una narrazione che sempre più spesso viene chiamata propaganda e poi c'è la realtà dei fatti, noi abbiamo a che fare con la realtà dei fatti, sistemi sanitari che sono allo sbando, casse integrazioni che proliferano, lavoro che manca soprattutto nelle nostre regioni del mezzogiorno, si ricorre sempre più spesso a quelli che sono i risparmi degli italiani, quindi più volte si è detto che i pensionati, i nostri nonni sono il bancomat delle nuove generazioni e poi viene fatta una narrazione tutta diversa, chiaramente dando una lettura dei dati che è una lettura, io mi permetto di dire, di parte, poi parlano invece i dati veri, alcuni esempi, si dice che aumenta il lavoro, ma dove aumenta questo lavoro se poi diminuiscono il monte ore salari e diminuiscono i versamenti che vengono fatti all'IMSS, ce l'ha detto anche qua in Molise il rendiconto dell'IMSS la settimana scorsa. Quello che sta succedendo nelle nostre regioni, anche ieri la rendicontazione sull'attuazione dei programmi europei, ci dice che ci sono delle mancanze delle carenze che poi dipendono da altri fattori politici come quello della mancata approvazione da parte della Corte dei Conti del bilancio regionale e questo manca poi chiaramente, questo fa mancare l'erogazione di servizi essenziali, fa mancare le assunzioni che sono utili a creare un sistema serio e democratico di welfare, insomma tutte queste cose vanno raccontate, noi ci dicono spesso che facciamo politica, ma meno male che la facciamo noi perché la politica dovrebbe farla qualcun altro, chi è stato votato dal popolo per farla e per garantire appunto quelli che sono diritti costituzionali essenziali a cittadini e cittadini, lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionati. Il 29 saremo a Campobasso, giustamente le fasce più deboli della popolazione che hanno avvertito per primi i campanelli d'allarme, quindi il sindacato nostro che rappresenta i pensionati ha organizzato una serie di manifestazioni nazionali e quella interregionale Abruzzo Molise si terrà a Campobasso il 29 mattina con un corteo che partirà da Piazza Romagnoli e concluderà poi, questa manifestazione si concluderà in Piazza Prefettura dove ci saranno interventi di pensionate e pensionate ma anche di rappresentanti istituzionali che proveranno a fare chiarezza, noi non ce l'abbiamo con nessuno, vogliamo solo che alcune politiche governative cambino per dare risposte a ampie fasce della popolazione. E' un fatto gravissimo perché l'umiliazione nei confronti dei pensionati dopo anni che hanno fatto cassa sui pensionati, perché come sapete hanno sempre propagandato il fatto che i pensionati che arrivavano a due, tre, quattro volte il minimo dovevano vedersi bloccate la rivalutazione e questo è un altro fatto, in questi anni si è registrato 100 miliardi a carico dei pensionati risparmiati in 16 anni, è una cosa incredibile, quindi questa è l'ulteriore umiliazione di questo governo verso le persone povere e quelle più disagiate. La settimana prossima ci sarà una manifestazione a Campobasso che praticamente vuole a tutti i costi far sentire la voce di chi praticamente non è più forza lavoro ma è un punto determinante per l'economia d'Italia. Allora, noi partiamo da un presupposto, questa è una società che va sempre di più invecchiando e l'invecchiamento non è una condanna, anzi noi dobbiamo essere contenti che c'è più vita per gli anziani, che gli anziani riescono a vivere di più rispetto alle altre epoche. Bene, ma se questo poi si traduce in una specie di condanna, così come lo vive questo governo, come le forze della destra che governano, diventa un problema inaccettabile anche per una questione di civiltà. Ora, questo comporta il fatto sicuramente, per esempio sulla sanità, che noi mettiamo al centro della nostra iniziativa, la rivalutazione delle pensioni, delle pensioni dignitose e poi il tema della sanità, del fisco e anche una questione democratica. Bene, tutte queste cose messe insieme devono costituire non una visione della spesa maggiore degli anziani che comporta, no, deve servire invece a rafforzare una capacità da parte del governo di fare un ragionamento di accettazione e quindi anche di investimento delle persone anziani nella società. Quindi il governo invece ha deciso che oltre al taglio delle pensioni dirette, c'è anche un taglio alla sanità, c'è un ridimensionamento del fisco e poi c'è anche una questione che secondo me è molto delicata, che riguarda la torsione che sta facendo questo governo, delle strutture democratiche del nostro Paese.